E' molto bello perché c'è un richiamo dei nomadi di come potete giudicare, lo so i nomadi non ti piacciono, o no? Perché no? Perché no? E anche poi c'è un riferimento ai Rockes di Ma che colpa abbiamo noi, un omaggio a Franco Battiato proprio sul finale, ed è un brano che io inserisco volentieri nella mia scaletta perché mi piace, insomma, molto bello, va bene. Ritorniamo a noi, Radio Cadanzaro Centro ospita oggi un personaggio molto conosciuto e apprezzato a Cadanzaro, non dico idolatrato perché ancora devi camminare un pochino. Forse neanche apprezzato ancora. No, no, apprezzato sicuramente. Abbiamo il conduttore di Live Music, Sergio Scicchitano, che ci sta parlando di questa trasmissione che sta conducendo in questo periodo, mi spiegava prima, fino al 27. Volevo chiederti, vabbè, come è nata Live Music, me l'hai spiegato prima, ma come è nato Sergio Scicchitano? Ecco, come mai sei andato a finire in televisione? Eh, questa è una domanda che spesso e volentieri faccio anche a me stesso perché ancora non sono riuscito a capirlo. Io non mi reputo un conduttore televisivo anche perché non lo sono ed è inutile dire di essere qualcosa che non si è. Posso dirti come nasco artisticamente, se è quello che vuoi sapere. Perfetto, per capire, per farti conoscere dal nostro pubblico. Allora, posso affermare che nasco artisticamente nel 1992, all'età di 12 anni, cominciando a mettere i dischi, perché io provengo dalla scuola dei DJ, quindi ho cominciato mettendo i dischi, facendo feste private, poi arrivando nelle discoteche più importanti della nostra regione e anche all'estero, diciamo, all'estero fuori dalla nostra regione e anche fuori dalla nostra nazione, perché ho avuto, diciamo, la possibilità di lavorare sia su a Milano, in determinati locali e comunque ho lavorato anche in Austria, precisamente a Kitzbühel e anche ad Agadir in Marocco. All'interno, poi, della mia carriera ci sono, spiccano, diciamo, tra virgolette, quattro anni di animazione turistica, perché ho una qualifica di animatore di contatto qualificato, ho fatto quattro anni di animazione turistica in Sicilia, Calabria, Sardegna e per l'appunto Austria e Marocco. E poi c'è anche il tasto della produzione discografica, in quanto nativo di Milano ho avuto l'appoggio per stare lì e sono riuscito a lavorare con la FMA, edizioni musicali e discografiche di Abramo a Lione nel 2004, ho fatto qualche disco, qualcosina, e poi sono ritornato nella mia terra di origine, diciamo, la Calabria. Questo è Sergio Scicchitano in breve, ecco. Ecco, Sergio, qualche, non lo so, qualche rimpianto, sei giovane, vedo che sei giovane, non ho mai chiesto l'età, però sembri un ragazzino, non lo voglio chiedere qua in diretta. Ma no, la possiamo dire, no, 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 anche perché... Classa, allora, Sergio Scicchitano, classe... Classa 1980. 1980, sei un ragazzino, sei un ragazzino, devo dirti, va bene. E quindi, va bene, comunque già una vita abbastanza vissuta, con tante attività che hai svolto durante questi tuoi anni, ma c'è qualche rimpianto, qualcosa che... E non hai fatto, che avresti voluto fare, o è andato tutto come da programma nella tua vita? Guarda, se c'è una cosa che mi manca all'interno della mia carriera, ecco, è proprio la radio, forse, perché sono sempre stato esterno al circuito delle radio. Forse perché non mi ha mai appassionato in maniera particolare, anche perché, come DJ, quando suonavo preferivo avere la folla, la gente davanti, studiarla e cercare di farla divertire al meglio. Rimpianti ti posso dire di no, assolutamente no, perché tutto quello che ho fatto, nel bene e nel male, comunque ha arricchito il mio bagaglio. Ed è una cosa che serve oggi come oggi, anche per quello che sto facendo attualmente, cosa che non avrei mai pensato di fare fino a dieci mesi fa, adesso mi sono ritrovato in televisione. Comunque, mi rendo conto che tutto quello che ho fatto prima, anche in maniera parziale, però mi ha dato aiuto in quello che sto facendo adesso. Quindi sono tutte esperienze che io rifarei, anche se alcune mi hanno portato a delle grandi delusioni, però sono state comunque esperienze che mi hanno fatto crescere professionalmente, ecco, diciamo così. Ok, va bene. Adesso andiamo ad ascoltare un brano, un brano che ti vorrei dedicare, tutto sommato, perché secondo me, e sono convinto anche secondo te, la vita dovrebbe essere vissuta all'incontrario. Magari. Quindi già, magari uno dovrebbe già cominciare morendo e tricchete e tracchete, insomma. Tipo il film. Tipo il film. Il suo caso di Benjamin Button. Benjamin Button, perfetto. Penso che Simone Cristicchi comunque si sia rifatto anche al film di Benjamin Button. Come sarebbe bello vivere la vita all'incontrario, invertire il senso di marcia del viaggio, diventare forse un po' più saggio. Hai mai pensato come sarebbe bello vivere la vita all'incontrario, invertire il senso di marcia del viaggio, diventare forse un po' più saggio.